buonasera ben ritrovati buon inizio settimana lu buon inizio settimana nani bentornati bentornati volevo dire che io sto sperimentando tra le telecamere c'è il mio telefono su un trespolo un po' un po' traballante stiamo in diretta su instagram e ho dimenticato di scrivere i numeri quindi partiamo subito con i numeri di telefono ho dimenticato anche di condividere facebook scusatemi sono un po' così quindi chiunque abbia modo di prendere nota o direttamente sulla sulla tastiera del cellulare se volete parlare con noi per dirci quanto vediamo mancate in questo weekend potete farlo chiamandoci o mandando un messaggio vocale o un messaggio scritto al nostro whatsapp che sarebbe 080 501 9998 oppure lui oppure il mio umile numero 080 501 4668 se per caso quando dico il numero mio c'è sempre un gran caos che poi è il numero più utile dell'altro capito ma perchè l'incipit l'hai dato tu quando quel numero è diventato non lo so la candina cianaccia posso dire se avete la signora del piano di sopra che cammina con le zoccolette anche in oralla controlla è limitato in un quartiere un po' così quindi dalle 14 alle 16 voi chiamate manderola dolcinani a citofonale a dire signora metti le peluche ai piedi e togli le zoccolette vado io con le mie raccabriccianti crocs io ho le crocs marroni come ben sai se da un anno e mezzo non riuscite a rinnovare il passaporto voi chiamatelo 080 501 468 perché? manderola dolcinani che centro io col passaporto? al laboratorio perchè lei la notte falsifica i documenti quindi se la vedrà lei a fare il passaporto e i documenti va rifiuto ma ti pare che se non riuscissi a falsificare ma ti pare che non sarei già entrata in un conto in un banking col dark web a metterci cifre a 10-0 a tutti anche a Tiziano Gonella che è in regia audio non alza manco la mano perchè è così professionale che sta facendo cose con i pitch si sta petinando questa è la verità si sta petinando io sto dicendo veramente che se sei serio tu mi metti la trombetta non lo so oppure ai ragazzi della regia della regia video ciao a tutti Gianluigi Michele ciao a tutti c'è Giuseppe c'è Chico e sono tutti al pascolo come sempre brucano l'erba e quindi poi alle 20 e 30 diciamo se ne tornano nei loro tristi paeselli con un velo di tristezza perchè voglio dire arriviamo noi si scorciano un bel po' ma ci compiacciono insomma ti pare che se non riuscissi a fare che hai fatto in questo weekend che avete fatto voi in questo weekend? ma guarda un weekend praticamente così all'insegna un po' della cucina un po' delle cerveze e un po' del lavoro perchè dovevamo aprire la nuova settimana la seconda settimana di prendiamocela comica e voglio sottolineare perchè questo serve che prendiamocela comica ma in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 20 e 30 in replica alle 13 su su telebari allora per chi ci sta guardando in replica alle 13 prima di tutto buon pranzo mi ha rallentato mi ha rallentato cioè perchè non vi risponde nessuno oppure tamborra magari dopo un po' insomma buon pranzo alle 13 c'è la replica ed è su telebari canale 17 sicuramente sullo streaming di telebari www.telebari.it e probabilmente anche su radio bari esatto e probabilmente anche su radio bari 88.8 cioè io sto parlando con un tono di voce così accogliente e vabbè ma se sono addormenti scusami quasi da smr ma a proposito hai detto una cosa interessante poc'anzi anzi poc'anzi hai detto che sei stata impegnata come d'altronde me e come d'altronde quasi tutte le donne d'italia che lavorano a fare le servezio e oggi è lunedì e che cosa ci abbiamo noi? chi è? ci citofona chi è? chi è? abbiamo la nostra Anna Bianca con le sue pulisi e pote noi ti amiamo ciao ciao e buon pomeriggio a tutti comunque vi voglio dire così insomma innanzitutto iniziamo la giornata e la settimana con la bari con e la c'è sempre perché oramai è diventato un modo di vita per noi che facciamo il pulizzo e le servizie della mattina fino alla sera poi ci sono certe ragazze e certe persone che se le scornano e uscivano le cose ci vuole sempre perché loro preferiscono tagliare e parlare sulla gente che loro non sono manco degno di nominare comunque a prescindere da tutto ciò prima di iniziare i servizi volevo dire a queste persone a queste insomma perché sapete che le mie perle di saggezza ci sono sempre ci saranno sempre iniziamo Ok, ciao raga, vi mando un beso, grande grande grande, ciao Luigia, ciao Annabelle, ciao raga, alla prossima lunedì, ciao ragazzi. Ciao alla nostra Anna Bianco! Anna Bianco, presto verrai anche in presenza, noi ci scioglieremo in brodo di giugio e tu con la varucca pulirai. Non so se hai notato che lei ti chiama Annabelle, com'è il film horror al cinema quindi. C'è una strega, lei usa questo francesismo, però l'ho pensato anch'io, assomiglia, assomiglia, si però è più mazza la bambolina. Ehi subita, ed era anche più, a proposito di è più mazza, le avevamo detto che saremmo andate dal nutrizionista, siamo andate dal nutrizionista, bravo Tiziano, il nuovo nutrizionista che ha trovato la cara Lu è un nazi, praticamente perché non è stato clemente come io, ho detto guarda io ho preso, ma si lo dico, tanto si vede, 16 kg, lui fa, ne devi perdere 22 barra 25, c'è l'olocausto, Cioè tizia veramente, ragazzi veramente, mi ha detto che devo perdere 22 barra 25, smettiamola di mangiare i palini con la mortadella davanti alla dolce navi, va bene? Prego perché io ho iniziato oggi, potrei trasformarmi, proprio potrebbe arrivare l'apocalisse zombie! Gli va a guandare a giugolare, perché fra poco oggi ancora sto, sto guadando il fiume! In realtà, li ho comprato nella farmacia, sapete i gommotti, quelli che si danno ai bambini, quelli che devono fare le gengive? Lo voglio, lo voglio! E quello, quello, così se lo tiene un po' e ciuccia quello, che vi devo dire, ragazzi, ha da massare il tempo! Raga, lei soltanto 11, perché lo sappiamo, perché lei dice sono grosso e sono grosso, non è vero che sei grosso e infatti, deve perdere appena 11 chili, ma sei alta, sei una pertica riverniciata, figlia mia, per citare Shakespeare! A me, che sono più bassa di lei, quindi sono un po' più tarchiatella, altro che sanghellato, 22-25 chili, io facevo la disinvolta, perché eravamo insieme, io facevo, sì sì certo, sì sì certo, ma dentro stavo morendo e sono morta! E caddi, come corpo morto cade, ma facci un fin di nuovo! Sì, radicalmente è proprio, cade morta! Che siamo andate a fare? Che come se non c'è di nutrizioni, ci buttavo dentro una pizzeria e ci mangiamo anche le gambe del tavolo e delle sedie, c'erano anche delle piedane lì, non lasciamo nulla, chiudemmo noi! Abbiamo mangiato, che non ve lo voglio manco dire, mamma mia che bontà! E vabbè, è giusto che sia così! E vabbè, e vabbè, e vabbè! Ma oggi è insomma così! Vogliamo ricordare che giorno è, anche un bet che qualcuno se l'è scordato! No, non se l'è scordato perché il mio primo giorno di dieta ed è il 9 ottobre! Cosa accade? Cos'è? La frase del calendario filosofico di oggi dice, Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto valorizzano la crepa riempendo la spaccatura con dell'oro, essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ha una storia e diventa più bello! È vero, è vero, è verissimo! Andiamo dalla nostra... Quante volte avete mai... Spiega calendario! Eh? Spiega calendario! Mi piace! Può essere un lavoro retribuito! Sì, per essere diversa! Ho anche pagato a nero, cioè non è che mi dovete dare per forza i contributi! Comunque, questo significa che più ferite hai, più un'anima è ferita, più ha bisogno di essere ovviamente protetta, ma più è forte! Se vediamo i sensi, se voi incontrate un'anima graffiata, cioè è una pericola di sicuro, li empatici, resilienti, comunque ogni persona che abbia subito un forte dolore ha la crepa nell'anima! Quelle persone sono sì fortissime, ma sono anche degli oggetti meravigliosi, oggetti virgolette, delle creature meravigliose che tanto hanno da darti, esattamente come un'opera d'arte o un bellissimo vaso rotto e striato d'oro! Ti è piaciuto? Madonna, e ho avuto un brivido lungo la schiena, che vabbè non ve lo posso spiegare perché poi si è fermato diciamo sopra alla mutante cellare! Noi le usiamo ancora, sapete che per il compleanno lui mi ha regato due paia di mutandoni proprio anti-stupro ovviamente, ma... Quelle sono contenitive, da là non può uscire niente in anni, capito? È triste, usare la mutanda contenitiva quando si è ancora in una certa attività, insomma, femminile... Ma adesso si usano pure i costumi da bagno cellare, quindi voglio dire... Non so come i costumi lui, ma salutiamo anche il nostro sponsor, visto che lo vedo in sovra, in brezzola! Sigma! Subblogato Sigma! Sigma, non vediamo l'ora di venire, però non possiamo venire, veniamo un po' più là perché io veniamo a mangiare la pesa di tacchino, la pesa o la tiè! Lascia a perdere! Se proprio vuoi dare un che ho il primo sale, però in quantità davvero limitate, è molto, molto bellissimo! No, ma non avresti lo stesso effetto, quindi lascia a stare, ma rimandiamo, rimandiamo! Nani, tu mi permetterai, devo salutare... Assolutamente sì! ...una ragazza che dici che praticamente per me imbastisce questo gusto dell'orbido, non lo capisco! Eh no, è una che si droga, insomma, probabilmente! Però voglio dire, non è manco vicino a Miriana di 22 anni, di triggiano, che tra parecchi non la fa ribassare davanti perché studia ingegneria biomedica! Ma è là che si è giocato, è là che si è giocato proprio! E niente, grazie Miriana, ti voglio bene! Non è vero Miriana, quindi mi invidi che sto sempre tanto con la Lui? Tanto, dai, a me mi invidi? Non tanto, non tanto! Ti invideranno sicuramente i pizzaioli, i ristoratori, coloro i quali danno proprio fiumi di beneficio, di benessere alle fauci in generale, le mie, fra qualche mese! Eh, gira che ti rigira, sembra torno là, andiamo, c'è come da fare! Eh, ma questo sarà l'argomento clou perché per me è tragedia, cioè, come veramente è! Ma noi ne ripariamo tra qualche mese, quando qui sembrerà che ci sono altre due persone, voi direte, ma dov'è la Dolce Nani e la piccola Lu, dov'è? Altre due, nel senso che ci saremo rotte della dieta, avremmo mangiato chi dell'alga! Avremo praticamente il posto delle sedie, avremo dei divanetti! Un due posti per due, due posti per due, due posti per due, oh che capperi! La la la, Udi già, per Baccolina! Ebbene, è bene! Cioè, Tiziano, ci stai già immaginando sexy come Edwige Fennec sotto la doccia in Giovannona tutta coscia, coscia lunga, non so se era lei la protagonista, o comunque in un film erotico anni 70! Vabbè, comunque, sta la pubblicità, mo' vi accompagniamo noi, la seta Giovannona, ci vediamo tra un po', ciao! Aiuto! Allora, un giorno di queste, di questi, voi vedrete questo posto a vuoto, io non ce la posso fare, va bene, non ce la posso fare. Ma avete visto che sciccheria, la Lu non ci si vede più, no, la Nani e la Lu! Allora, avete visto i nomi? Ancora qualcuno non sa come ci chiamiamo, però, se quando telefonate e mandate un messaggio ci volete chiamare, noi siamo Lu e Nani, va bene? Sì, dovete sapere che ho fatto una cosa, perché voglio diventare più social, perché me voglio sentire più giovane, non so se mi spiego, anche se i peni in alcune parti del corpo imbiancano come le cime delle dolomiti, n'è vero! Ma sì, si è cominciata a drogare, no, così anche per capire, e va bene, Nani, è il primo giorno, io immagino tra due settimane che cosa deve essere, tanta pazienza! Sì, immagina tra una settimana! Abbiamo una telefonata, wow, 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 pronto! Pronto, sono Nicola Clemente, come va? Ciao Nicola, come va? Nicola Clemente, Nicola Clemente, o solo Nicola Clemente, Nicola il nome è Clemente, il cognome, giusto? Sì, sì! Oppure sì, Clemente, Nicola, senti Nicola, ma com'è il tempo in Molise? Sì, sì, sono io, sono io! Lo so, come abbiamo adesso? Com'è il tempo in Molise? No, no, caldo, ma l'unica è messo pioggia però, la settimana prossima è tutta pioggia! La settimana prossima, ma è meglio per, non lo so per la campagna olearia com'è questa piove! Sì, non lo so, però io so che in questo mese si vanno a fare le castagne, voi avete cominciato ad andare a fare le castagne? No, no, qua non si usa, qua facciamo le olive! Ah, e com'è andata la campagna olearia? Cioè, com'è, com'è, com'è stanno le olive? Eh, è buono, è buono, l'olio sta a 15 euro il litro e le olive, le olive stanno a 150 euro il quintale! Ah, faccio una pizza, se si può dire, ma c'è, è aumentato notevolmente l'anno scorso! Io ero rimasta, la verità, a 10 euro al litro, ma 15 euro mi fa stare un po' male in realtà! Sì, ma sta a 8, beh! L'hanno messo, l'hanno messo in pari agli olive, capito? Mannaggia la mite, non è giusto! Vabbè, ma noi nutrizionista ci ha detto che dobbiamo, non dobbiamo usare l'olio, quindi niente! No, meglio usare l'olio di pesce! Io l'olio di pesce! Io c'ho 40 gradi! Eh, ma anche l'olio di girasole è aumentato! Eh, sì, sì, quello era già aumentato, già da un anno è aumentato! Davvero? Sì, sì! Che pizza! Mi ricordo quando compravi l'olio di girasole che costava un euro... Eh, poi è arrivato a 4! E poi arriva il doppio praticamente! Ma voi siete fuori, non tu Nicola, né voi telespettatori, voi che decidete il mercato, siete impazzitissimi! Sì, la rivoluzione! No, niente, c'è da fare! C'è da fare! Annabella, non siamo noi agricoltori, purtroppo è così il mercato e ovviamente come si dice, la domanda, se la domanda è bassa l'offerta aumenta! Eh certo! Senti Nicola, comunque, mando una casa di olio a me Annabella, tanto che cazzo, cioè ce lo produci tu! Tanto Nicola, ne consumiamo un po'! Mi fa piacere, mi fa solo piacere! Vabbè, lascio il numero che ti chiami! Come no, a me mi fa piacere, anzi se mi è venito a trovare è ancora meglio! Eh, usate, ma non è che voli se qua ti è! Organizza una serata! Io sto tre ore da Bari, eh, non a stare! Non una seratina, una serata! Senti, veniamo a fare un weekend, lo vediamo, dai! Sei allargata già! Eh no, come no, mi fa solo piacere! Peccolino, però dopo la dieta, perché sennò che senso ha? Allora, quando c'è educazione, c'è tutto! Eh Nicola, che io ho detto? Per piacere, manda qualche bottiglia di olio! No, non mi hai capito! No, ho capito, è una battuta, Nicola! Ho capito, è chiaro! Ci mancherebbe, vabbè! Comunque, noi siamo in attesa, ci aggiorniamo, va bene, ci aggiorniamo! Come no, come no, ti ripeto, mi fa solo piacere, un bacione! A te! E buona sera a tutti! Ci sentiamo presto, ciao Nicola, buona serata! Ciao Nicola, ciao ciao! Un bacione! Ciao! Ciao! Che bello Nicola! Bello Nicola che vede l'olio e che ci vederà un camere! Eh, non lo vendono! Vabbè, Anna, stiamo a mettere il punto play! Ma vedo nella preview una mano a me cara! Oggi è lunedì, vedo quella manina panzerossina dalle impine di baci! Perché il lunedì abbiamo Anna Bianco, ma poi abbiamo... La rubrica di Zia Maria! Che bello! Che mano patoccona! Buonasera! E il mio hobby è quello di colorare! Questo l'ho fatto giorni fa! Mi portano i fogli stampati e io li coloro! Come vi ho detto, a me piace il calcio! E sono una tifosa del Milan! L'altra sera avete visto? Mila Inter sono felice perché il Milan ha vinto! Il mio giocatore preferito è un attaccante molto bravo! Vi abbraccio tutti! State bravi! Alla prossima! Allora io volevo fare un appunto! Questo video è stato fatto praticamente antecedentemente alla partita che invece ha giocato il Milan sabato con il Genoa perché in realtà Zia ha parlato della partita che invece c'è stata se non sbaglio mercoledì o giovedì che era quella appunto del Milan-Inter dove il Milan ha vinto 2-0! Comunque anche con il Genoa il Milan ha vinto quindi sarà doppiamente felice! E lei che porta fortuna! Allora grazie Zia Maria! Noi ti vogliamo tanto bene se è una paciocchina! Ecco! Allora! Eh già il 23 non è normale! Non è possibile! Vabbè allora a questo punto andiamo a consultare gli astri! Madò che bella cosa! E questo è un'altra! Ebbene! Come tutti gli inizi di settimana ovviamente io leggerò l'oroscopo, sì l'oroscopo della Dolce Nani Scusa se si dice della Vesta! Mi ha indicato così! Sì però della Dolce Nani e lei leggerà il mio! Allora Leone! Leone! Ti piace? Allora durante questa settimana vi dovete concentrare più sulla famiglia che sulle questioni personali potrebbe aumentare anche la gioia domestica! Che senso la gioia domestica? Che cosa? Magari sta meno dispettosa! Ok! Evitate di investire in schemi dubbi per salvaguardare il tuo capitale! Ma io devo dire questa è una cosa che... In schemi dubbi? Schemi dubbi? Per salvaguardare il tuo capitale! Quale capitale? Sì ma scusa me la spiego! No scusa me la spiego! Ma che c'è uno messo! Che significa evitate di investire in schemi dubbi? In schemi dubbi? Per salvaguardare il tuo capitale! Tipo giocare in borsa! Sì! Oppure fai... Gioca gioca gioca! 50 euro ma 50 euro! Ma quel cretino non lo sa! Vabbè dai! Ehi guarda che carino che ci hanno messo tutti i segni! Ma che carino! Ho detto guarda che carino che ci hanno messo tutti i segni! Vabbè però... Non conosco questa tutta la famiglia! Vabbè ancora generalizza! Vabbè leggi il mio vediamo se... Aspetta un attimo! Fammi mettere la prolunga! Vado le gemelline! Vado palline! Le gemelline palline! Capricorno! Qual è il suono? Qual è il fatto che dice il capricorno? Questo? Non lo so! Forse fa così il capricorno! Vabbè è l'altro! Capricorno! Avrete molto da fare a ottobre! Come tutti i mesi! Le occasioni migliori spuntano fuori dopo il 12! Quando Marte passa in scorpione! Hai! Segno amico! Vabbè piacere piacere! Andiamo due a casa! Dopo il 23! Non avrete più stelle contrarie! E potete dare il meglio di voi! Grazie anche alla spinta di Giove! Non forzare le cose durante il 9 lunio del 14! No no no! Il 9 lunio è arrivata a casa! No no no! Io quando è il 9 lunio! Quando c'è il male ai piedi! Non ti fare il 9 lunio questa volta! Il pediluvio! Non fare il 9 lunio! Non fare la Pasqua il 9 lunio! Che il 14 porta male! Beh comunque meno male che me l'hai detto così mi sto fai! Abbiamo già telefonato! Pronto! Noi non... Questi sono gli astri qua! Il nostro limite è questo! La giungla! Pronto! Pronto! Pronto? Sì! Eh ciao! Sono Michele da Valenzano! Ciao Michele! Ciao Michele! Ciao! Sì? E dove va ragazze? Tutto bene? Tutto bene! Bene grazie a te! Benissimo! Oggi sto vedendo che state in dieta! A dieta sì! Ti vedi già magre? Perché? Perché mettere a affondare il dito? Come un fioretto il dito nella pianta! Perché io so che poi dopo voi andrete a mangiare! Chiaro! E quindi la dieta oggi? Non lo so! È un giorno saltata! No! Non lo so! È lunedì! Perché vestiamo un po'... È lunedì! Siamo... Siamo reduci della domenica! È grande abbuffata! È lunedì è sempre molto... Poi devo tornare a casa che devo vedere il grande fratello! Ah sta sulla sta? È lunedì! Il grande fratello! Chi sta nella casa? Poi domani mattina mi alzo presto perché... Ma molto... Eh sì perché domani deve venire la donna del pulizio vostro! Ha di tutti i fatti miei praticamente a me! Quindi domani mattina mi tocca alzarmi alle 6 e mezza! Ma ho detto un po' di cose mie! Ma bocca! Quindi lunedì anche no! Anche no! Ma ora vediamo domani! Vediamo domani! Eh no perché io sto a dieta! Va bene per dire! Ma siccome tu non l'hai ancora iniziata! Mi fa iniziamole insieme! Ma lei deve perdere la metà dei chili che devo perdere io! Per cui cioè se io nel frattempo faccio quest'altra strada... Perde due trecento grammi capito? No no è sicuro che prendo altri dieci chili! No no no! Che si sta togliendo un po' le pieghe prima di iniziare la dieta ferrea! Perché lei è bravissima! Ok! Quando si mette a dieta lei! Ma può arrivare che ne so! Che ne so! Oppure Rekidogom d'Inghilterra! A dire vuoi mangiare un buon muschiato? No! Capito? No! Io invece le sono debole! Vabbè ma tu invece hai bisogno di dieta? Beh sì! Se quando vessi un po' di pancetta! C'è la che la faccia tonda tonda! È vero? Sì esatto esatto! Ho bisogno anch'io! Si sente dalla voce! Capito? Si sente dalla voce! Ma quei chili in più! Quei chili in più ci fanno essere capito? Gioiose! Simpati! Quando uno è magro! È triste! Io proprio lo riscontro nella vita quotidiana! Capito? È vero è vero! Com'è chiusura! Ma dai! È il meteo! È il meteo oggi! Forza! È un po' di leggeri! Ci salutiamo! E Michele! Esatto! Ti saluta Tiziano Michele! Eh lo sento che mi saluta Tiziano! Ciao Tiziano! Ti salutiamo Michele perché tra un po' ci oscurano! Tanti per cambiare! E non da uno bravo! Ciao Michele! Ciao Michele! E qua abbiamo le nostre pirle di Osvaldo! E vai! Amore! Eh? Ricordati nulla è sbagliato e nulla è quella cosa che ti rende felice. Però voglio dirti una cosa. Ma come? La felicità a volte non è quella cosa che scompare nel nulla. O come la nebbia che diciamo ti rappresenta il vuoto. Sei chiarissimo! Anzi voglio dirti quel nodo che tu hai nel petto e che non riesci a digerire prima o poi ricordati che si dissolve. È come la nebbia. Con l'aquatomica. Sì, amore, ricordati non c'è nulla che non può dissolversi nella nebbia. Anzi, voglio dirti ancora di più. E sentiamo. Ricordati che i fulmini non sono quelli che cadono a ciel sereno, ma durante la tempesta. E le navi non affondano mai se non c'è la tempesta. Non fa una... La tempesta è qualcosa che noi creiamo al di dentro di noi. Ok. Guarda, l'alta marea è quella cosa che ci fossilizza nell'ambiente. E noi siamo l'ambiente. L'ecologia è quella cosa che ci avvolge la sciarpa dell'amore. Noi saremo quelli che salveremo il mondo. Amore, ciao. Sono il tuo Svaldo. Quello che ce l'ha sempre è caldo. Sì, il cuore! Ricordatevi. O Svaldo non fa niente. Ma poi hai visto il nuovo look della settimana? Favoloso. È irrinunciabile. Grazie a tutti. Ci vediamo domani. Ciao! Ma che dì!